Adesso tutti uno vicino all'altro. Gola Zoli. Per Villena, che punta, si accentra. Dai, vai con colibali. Villena! La prima volta in Serie A per Toni Villena. 3-0 per la Salernitana. Fatto tutto meravigliosamente bene. E lo dicevamo ancora, appena era partita questa azione, tutti uno vicino all'altro. Perfetta veramente la dinamica di gioco, soprattutto nell'1-2 di Villena, che poi la tranquillità e la calma con la quale ha messo alle spalle di Odero questa palla. Giocatore di qualità assolutamente superiore. Lo dicevamo nel corso del primo tempo. Una carriera che era davvero destinata a decollare. Lo ha fatto certamente...